La bella affermazione della Gelbison sul campo della capolista ha fatto consolidare la posizione di centro classifica e contribuito a mettere un altro tassello nel mosaico che porta la scritta salvezza. Intanto l'espulsione del difensore Ander Romagnoli ha accelerato i tempi per l'arrivo di un altro difensore centrale. Si tratta di Giovanni De Angelis, 19 anni, proveniente dalla Salernitana Primavera, che ieri ha firmato e cominciato a lavorare con i nuovi compagni. Potremo vederlo in campo domenica nel match casalingo con il Palazzolo. La compagine siciliana ha cambiato allenatore passando da Strano a Betta. Il tecnico Severo De Felice, che recupera Uliano, parla dei suoi ragazzi in termini positivi. Dobbiamo soltanto essere più cattivi agonisticamente e se lo avessimo sempre fatto avremmo ora qualche vittoria in più che ci farebbe stare più tranquilli. Chi non riesce a vincere è l'Ebolitana, che nel doppio turno casalingo ha rimediato soli due miseri punti che di certo non hanno fatto migliorare la già precaria situazione. Ne è consapevole il DS Ramon Taglianetti. La gara con la San Cataldese ha detto che per noi diventa la prima di 14 finali che dovremmo affrontare fino alla termine della stagione. Siamo consapevoli che centrare il traguardo della permanenza non sarà facile, ma dobbiamo crederci a partire dal match contro la compagine siciliana, anche se si tratta di una sfida piena di insidie. Il tecnico Alfonso Pepe può contare sul recupero di Munar a rientro dalla squalifica, mentre Nigro è ancora out. Quanto a Scalzone, sempre alle prese con un infortunio, si spera invece di recuperarlo sia pure in extremis e lanciarlo nella mischia.